ragazzi sono avarese di ale belforte al numero 2 di ale belforte lì c'è questo ingresso che ci porta all'interno di un mondo dedicato alle due ruote un mondo marchiato bike house orange avarese ktm kawasaki davide cerni luigi sono pronti ad attenderci ad aprirci le porte della loro meravigliosa concessionaria per cui pronti iniziano una nuova avventura andiamo eccoci qua davide luigi grazie mille per l'invito siamo qua per conoscere una realtà meravigliosa varese una città nella quale inizia a lavorare 75 anni fa per cui davide sono felice di tornarci e dicono non lo dimostri è iniziato molto giovane sono del 21 io per cui insomma li porto bene ma li porto allora racconta venuti davide grazie mille raccontami come è nata questa questa bellissima storia ok questa storia nasce nel 2017 noi siamo un gruppo di soci i miei soci che avevano già aperto un'altra concessionaria hanno poi avuto l'opportunità di aprire un luogo che è proprio questo dove noi abbiamo inizialmente pensato di fare un polo squisitamente di ktm inserendo sia ktm moto che ktm biciclette infatti inizialmente noi avevamo suddiviso la concessionaria così poi cammin facendo le biciclette sono andate un po il secondo piano anche perché il mercato delle moto con le biciclette ciazzecca ma fino a un certo punto e pian pianino abbiamo allargato anche l'offerta oltre a ktm abbiamo allargato con kawasaki da due anni a cui abbiamo dedicato uno spazio che poi vedremo abbiamo abbiamo acquisito le vent che sono delle motorette interessanti per i ragazzi di che hanno 16 anni 18 anni anche perché ktm offre il top è in assoluto di vendite in in italia che è il 125 duke e altri modelli anche kawasaki li ha però quando si parla di enduro o di motard cioè al momento non ha ancora in gamma un'offerta interessa un'offerta da proporre insomma oltre a vente poi abbiamo anche toccato e assaggiato un po il mercato dell'elettrico con supersoco un mezzo per la mobilità urbana e quindi siamo arrivati ad avere questa conformazione dove oggi questo è il salone ktm dove come potrai vedere abbiamo cercato di personalizzare anche perché il nostro architetto è un architetto fantastico e ci ha personalizzato l'angolino del fuoristrada con questa anche scenografia alberi colori immagini molto particolari questo è proprio l'angolo del fuoristrada dove noi mostriamo le nostre enduro e le nostre cross moto che oggettivamente sono leader in tutta europa e poi ci sviluppiamo sulla sulla concessionaria con uno spazio che è squisita quasi del tutto dedicato a ktm strada con anche tutta la parte diciamo di abbigliamento sulla sinistra e abbigliamento ovviamente strada casual e poi una un'area dedicata per l'accessoristica e l'abbigliamento nel fuoristrada poi abbiamo un gioiellino lì che quella lo vista restaurata del 75 se non vado errato una moto che ha ristaurato interamente mio fratello che un grande appassionato anche di di meccanica e questo è l'ambiente dove noi viviamo quotidianamente e proponiamo questi meravigliosi giocattoli che sono la ktm sempre nell'ottica prima di passare nell'altra area della concessionaria ecco diciamo che noi nasciamo come dicevi tu prima nel 2017 in realtà la nostra idea di parte ancora prima nel 2012 con un'altra concessionaria di cui so che avrai modo di parlarne che è la bike house gruppo bike house è un gruppo fatto da tre concessionari e due bmw e una una bmw una bmw e kawasaki e poi la nostra che è ktm e kawasaki come marchi leader diciamo che noi veniamo tutti dall'azienda quindi non non è nel nostro dna né aver fatto i meccanici né aver fatto i negozianti ecco arriviamo tutti nell'azienda abbiamo cercato io mi sono occupato quasi tutta la mia vita lavorativa nell'aprire e gestire negozi di più aldi di tante cose quindi da chiaro da gioielli a librerie a quindi la mia passione è la gestione poi c'è una passione condivisa sulle moto che ovviamente piacciono e ho sempre amato e siamo tutti elementi che hanno amato e amano moltissimo le moto e questo era l'epilogo naturale no delle cose arrivare qui io mi sto divertendo come un matto vivere in un ambiente di persone che entrano sognano e realizzano il loro sogno mettendo il sedere su una due ruote per noi è una cosa meravigliosa e ecco una caratteristica che credo sia importante dire per presentarci a differenza magari di altri colleghi che non che non pongono così tanta attenzione e che noi proprio per aver fatto un lavoro diverso nel passato riteniamo sia sostanziale è l'accoglienza è dare retta ai clienti i clienti qui si devono sentire benvenuti già dal momento in cui entrano dalla porta quindi salutarli non far passare più di un minuto se possibile dalla loro entrata per accoglierli certo tanto canto entrano a casa nostra ma vogliamo che si sentano a casa loro quindi questo è un po il nostro il nostro spirito è molto bello questo pensiero ragioniamo spesso non si sentono dire queste cose per cui guarda io una delle cose noi una delle cose che diciamo sempre a tutte le persone che si siedono alla nostra schiavanie o che vengono a giocare con noi diciamo a noi non interessa venderti una moto a noi interessa avere un cliente si viene qui che ha voglia di essere seguito questo che si fida e per potersi fidare deve sentirsi indubbiamente arricchito dalle informazioni che noi possiamo dargli e convinto che non siamo lì a mirare per vendergli un accessorio in più piuttosto che una moto che è più costosa io per primo ma imparo ancora tantissimo da luigi a cui passerò la parola a breve cerco sempre di veicolare una delle prime domande che faccio ai nostri clienti a cosa ti serve la moto perché non so tanto per fare un esempio sui 1290 super avventure che sono dei mezzi meravigliosi è vero che il 1290 super avventure r esteticamente è il più bello tra di tutta la gamma ma non è funzionale se uno lo usa prevalentemente sulla strada quindi molto molto spesso proprio facendo queste domande sono in grado di veicolare e dirti costerebbe di più guadagnere di più ma però ti propongo la moto che ti serve ma sì perché tu devi usarla tutti i giorni apri il tuo garage devi godere devi sentire la tua pancia che si muove godi ma devi anche godere nell'usarla tutti i giorni avere il mezzo giusto le borse ti piacciono le borse in alluminio sì ma le borse in alluminio color alluminio sono da deserto quindi hanno gli attacchi che sono con dei pomelloni non hanno le serrature te le vendo se le vuoi ma io voglio che tu lo sappia perché se ti servono delle borse di più facile utilizzo dove tu puoi agganciarle ed essere sicuro di lasciarle in centro milano che nessuno te le strappa via è meglio dotare di avere borse con le serrature non borse che si agganciano solo con dei pomelli giustissimo questo è un po' il quadro della situazione la filosofia Luigi qualcosa capisce mi dicevi prima che qualcosa capisce Luigi oggettivamente devo ammettere che nella nostra squadra Luigi è la passione allo stato puro Luigi da tutta la sua vita ha corso in motard ha diverse moto peraltro sono dieci anni che ha KTM nel suo garage anche prima di iniziare a fare questo lavoro in tempi nuovi non sospetti sì diciamo dai 14 anni è sempre stata la mia persona la moto e ho coronato qualche anno fa grazie alla possibilità di fare questa nuova esponente quindi grazie a Davide grazie ad Andrea diciamo al gruppo Bike House di rendere concreto a questa mia passione che è nel lavoro la vendita essendo sempre stato un commerciale da più di vent'anni unirlo a quello che è la passione per le moto e per i motori il fatto di avere corso anche di aver fatto diverse cose in diverse specialità un pochino mi aiuta a entrare in empatia con il cliente che sì se si può si cerca di laddove c'è nella possibilità arriva a che un KTM ce li ha assolutamente chiare di quello che vuole e qualcun altro invece è bello anche poter cercare di io dico se a me piace vendere non stravendere quindi dagli una mano se c'è la possibilità nel guidarlo un pochino nel consigliarlo laddove in pochi casi c'è la possibilità di poterlo fare cerchiamo di farlo al meglio con tutta la gamma di cui disponiamo quindi dalle moto solo sportive, le enduro, i motardi, i cross tutto quello che nello street KTM negli ultimi anni sta esprimendo e l'abbinamento anche di Kawasaki ha dato la possibilità di avere ancora un retaggio diverso, frazionamenti di motori diversi categorie ancora più spinte verso proprio il solo asfalto in un'azienda anche quella molto molto importante diciamo che il nostro cuore si divide un po' arancio e verde questo è un pochino il passaggio stanno anche bene a livello cromatico tra l'altro tu hai una funzione poi importante per oltre ad essere consulente di vendita quello che ci consiglia fai anche un po' da maestra, da psicologo in qualche caso giusto? perché quando arriviamo noi siamo così delle tavole da scrivere dei nastri bianchi su cui incidere qualcosa per cui un lavoro tosto il tuo sì sì a volte sì, questo sicuramente però bene o male i clienti sono sempre molto disponibili la moto è una cosa, io lo sapete, in più non è un mezzo magari super utile come potrebbe essere una macchina quindi è assolutamente indispensabile e quindi c'è una parte sicuramente molto emozionale che guida il cliente che viene a cercare la sua prima moto o cambiare la moto e quindi io ho terreno abbastanza facile da questo lato poi dall'altro lato avendo spaziato un pochino tra un po' il cross, poco l'enduro, un po' di più il motard, c'ho corso un italiano andando per strada girando un pochino diciamo la nostra bella Europa mi rendo conto che alcune volte alcuni clienti sono abbastanza bizzarri in questo modo però sono forse io il primo non mi devo mettere davanti che è motociclista per cui è guidato dalla passione e la passione è quello che abbiamo scritto su tutte le nostre felt che questo indubbiamente è il live motive che guida la concessione aero da basso noi e tutto il gruppo Bike House questo sicuramente la passione sì indubbiamente sì perfetto avete voglia prima di passare a Kawasaki di dirci che momento è per acquistare una gamma avvicinarsi alla gamma Kawasaki senza tralasciare quello che ha detto lui che questo mondo quello delle due ruote e soprattutto quello legato a questo tipo di marchi è ancora un mondo dove c'è la parte emozionale che ad esempio nelle quattro ruote sta pian pianino in maniera inesorabile sparendo perché l'acquisto che una volta facevamo di una vettura era un momento in cui ci veniva mi viene ancora adesso un po' la pelle d'oca adesso mi viene solo se mi affaccio a un discorso di due ruote che momento è per avvicinarsi a KTM Kawasaki? allora un momento particolare soprattutto adesso parlando di quello che potrebbe essere KTM l'arrivo del nuovo 1390 che adesso equipaggerà il Super Duke quindi il best seller un pochino di Duke quasi una famiglia nella famiglia in questo senso frazionamenti nelle varie cilindrate sicuramente è un momento in cui la gamma si sta ulteriormente evolvendo per quello che riguarda poi la 990 che arriverà a brevissimo e quindi quello che va a sigillare ancora il successo di quello che è la 890 Duke The Scalpel, i bisturi con una moto che adesso avremo anche noi voglia di provare a mettergli le mani addosso a vedere un pochino come si muove ma credo che KTM il suo ready to race sia sostanzialmente impresso in ogni singola vita della moto nel mondo Kawasaki oggi c'è anche una parte non solo emozionale ma anche commerciale dove attraverso quello che potrebbe essere l'acquisto di una Versys, di un SX1000 o della Z900 ci sono delle campagne commerciali che sono stra pubblicizzate sul sito dopo comunque le rivediamo quando andiamo in Kawasaki a livello di proposte commerciali c'è qualcosa di cui ci volete già parlare o lo vediamo nelle prossime settimane? no sicuramente sulla 1090 Super Adventure abbiamo una campagna in questo caso prendiamo in esame questa qui arancione dove attraverso quello che è la collaborazione in dubbia con KTM abbiamo la possibilità di dare 2000 euro di quelli che sono vantaggi su questo modello di integrare quelli che sono i due anni di legge di garanzia con ulteriori altri due e quindi veniteci a trovare questa è una parte che adesso è sicuramente importante per la punta di diamanti un pochino di KTM nel mondo travel ecco una cosa a cui tengo a aggiungere a quello che dice Luigi che è questa proposta è una proposta molto interessante ma che si rivolge esquisitamente al Model EAR 23 che non cambia minimamente rispetto al Model EAR 24 ma al momento noi possiamo fare questa campagna solo e esclusivamente su Model EAR 23 di conseguenza è un motivo in più per affrettarsi anche perché i Model EAR 23 non ce ne sono più quindi finendo gli ultimi pezzi che ci sono in casa sono quelli su cui noi possiamo puntare in questo senso direi di sì ok a livello di emozione posso dire quest'anno Luigi li ha espressi molto bene anche se mi dispiace non siamo in grado di farveli vedere dal vivo e li faremo arriveranno appena arriveranno te ne mostrerò sicuramente i vari modelli diciamo che l'anno scorso sono usciti dei modelli interessanti che continuano quest'anno e che danno anche delle opportunità molto interessanti a coloro che magari non hanno un budget sufficiente per avvicinarsi al mondo KTM e con questo non voglio dire che KTM sia estremamente elevata di prezzo ma sicuramente è un premium brand quindi ha un certo livello di prezzi che è significativo KTM l'anno scorso è uscita con due modelli in collaborazione con CFMoto di cui avrai sicuramente parlato nelle tue rubriche ma che ci tengo a ricordare perché sono due modelli che sono arrivati molto tardi l'anno scorso e quindi hanno pochi mesi di vita nelle concessionarie e quest'anno credo che esprimeranno tutto il loro fascino e la loro potenza il rifacimento tra virgolette del 790 Adventure modello che era uscito qualche anno fa prima del passaggio alla nuova categoria dell'euro e viene riproposto riprogettato da KTM e ricostruito da CFMoto sono delle moto che permettono ad avvicinarsi a un pubblico con un prezzo che si aggira agli 11.000 tra gli 11.000 e i 12.000 euro quindi è molto accattivante considerando che un 890 Adventure che è la sua sorellina subito superiore supera i 15.000 quindi oggettivamente permette un avvicinamento anche a chi magari non se la sente di mettere una mano al portafoglio con tutta una cifra di questo tipo se bene lo meriti completamente mi sembra una proposta veramente interessante è interessante poi noi al lato di questo avremmo anche una chicca che è un ultimo pezzo di un 890 Adventure ancora la versione precedente a quella dell'anno scorso quindi un 22 che stiamo offrendo a una condizione di estremo e questa che stiamo vedendo adesso questa che stiamo vedendo adesso è una moto che non dispone come il nuovo modello delle forcelle regolabili cambia leggermente nell'estetica quindi nelle plastiche nel cupolino ma di fatto a livello di motorizzazione e soprattutto questa nuova cosa che KTM ha previsto in tutti i suoi travel quindi serbatoio basso baricento basso estrema maneggevolezza ci permette una moto che era fuori nel 2022 a 14.000 euro la vendiamo ed è l'ultimo pezzo a 12.500 più la messa in strada quindi è molto meno tra i 15-16.000 euro di un 890 adverto attuale anche se gli mancano quei dettagli che non tutti i motociclisti poi apprezzano perché io posso apprezzare la gestione delle regolazioni delle forcelle che sono fantastiche meravigliose ma molti nostri clienti non sanno di averlo ma poi non le usano certo quindi alla fine forse questa è una chicca proprio perché mi permette di vendere una moto a 1.000 euro in più di un 790 moto nuova e ha una motorizzazione che è perfetta 105 cavalli prodotta in Austria con spezziamo una lancia anzi due a favore di quella che potrebbe essere il modello diciamo un modelier precedente che qui seppur da fermi togliendo una vite il parabrezza è regolabile situazione perclusa al nuovo modello che però ha un altro finta a livello di protezione aerodinamica con il parabrezza fisso come si vede e banalmente quello che potrebbe essere il cliente che oggi lo smartphone fa parte delle nostre vite è già predisposto di un modulo bluetooth per il collegamento per poter avere quella che è la navigazione by turn turn by turn vedere una chiamata in entrata ok ce l'aveva già di serie cosa che oggi sui modelli nuovi è una cosa che devi mettersi in mano al portafoglio aggiungere per poterla avere in un settore che è quello che si è vero il prezzo ma lo vediamo anche da altri marchi altri competitor questo è moto travel quindi ruota da 21 18 dietro dà la possibilità di ampliare molto gli orizzonti le persone oggi un po' il traffico il caos la vita frenetica magari cerca quella che potrebbe essere anche l'opportunità di andare oltre l'asfalto e questa è una cosa molto molto bella infatti ho organizzato in un paio di occasioni l'anno scorso alcune uscite con dei clienti dove siamo andati a quella che è la famosissima via del sale quindi fare qualcosa di diverso quindi una moto che ha dei consumi nell'utilizzo diciamo normale è assolutamente rispettabile supera i 22-23 km con un litro ho 105 cavalli ho una moto che viaggia ben oltre quello che è previsto e consentito dei nostri italici limiti motostradali è dotata di tutto quello che può servire e ti porta praticamente ovunque dal traffico è molto snella per muoversi all'interno di quello che potrebbe essere quello che troviamo sulle strade e non solo al di fuori dell'asfalto come dicevo proprio per me poi io ne ho una per cui so le stai parlando con il cuore in mano tra l'altro adesso era 12.000 anziché 12.008 12.005 è più bravo lui è stato più bravo lui per noi non ho gli occhiali ha detto 12.005 perché non ha gli occhiali sì sì ma va bene va bene più immatricolazione anche lì immatricolazione va bene giusto ma la cosa bella di questo brand è che quella moto che è un 2022 alla fine questo marchio non stravolge i suoi modelli per cui c'è sempre una leggera evoluzione come insegno i grandi marchi anche delle quattro ruote però la moto rimane non prendi una moto che dici mamma mia effettivamente è datata questo non succede per cui questa è veramente una bella occasione che vi auguro anzi magari anche grazie al video che stiamo facendo di consegnare a un appassionato che si rende conto che con una cifra così porta a casa un mezzo veramente straordinario assolutamente poi volevo dirti sempre per rispondere alla tua domanda magari faremo un focus successivamente altro modello di grandissima punta l'anno scorso e quest'anno per me non sarà diverso sono i 790 Duke magari ne parleremo certo in un altro video e poi altro elemento che può essere interessante come momento storico in questo momento ci sono diversi moto che cambiano il modello ma cambiano solo in termini di colori come i 390 Adventure come o modello in se stesso i 390 Duke e i 125 Duke sono stati completamente rinnovati moto arrivate a dicembre ci sono ed è qui il vantaggio molto grande ci sono delle belle offerte su moto che non sono 24 ma sono 23 o per i modelli come i 125 Duke o per le 390 Adventure che di fatto cambiano solo a livello di colore ma che possono permettere di avere degli sconti interessanti e voglia di dirci più o meno di cosa parliamo se lui dice lui che ha gli occhiali perché io non ce li ho li guarda però se li ricordo senza leggere è peggio Davide allora grosso modo dovremmo essere sui 125 intorno a qualcosa ai 4500 euro dagli altri 5500 che era proposta prima quindi uno sconto molto molto consistente e poi veniteci a trovare abbiamo ancora delle altre chicche che vi risolviamo su questi ormai pochi modelli che sono avanzati in questo senso rispetto a quello che potrebbe essere i nuovi modelli 2024 anche perché sono moto che tengono dannatamente bene il mercato dell'usato quindi alla fine piuttosto che pigliarsi un usatino prendi una moto nuova assolutamente i 390 Duke per esempio che ti dicevo sono cambiati sono cambiati dai 6550 prezzo di listino 23 noi lo stiamo vendendo a 5.850 quindi è una bella è un bel risparmio sui 125 come diceva Luigi 4.500 poi ne abbiamo uno squisitamente che abbiamo già allestito che è il primo mentre loro litigano è il primo quello l'ha allestito scusate siamo intervistati quello lì quello che diceva lui è praticamente abbiamo fatto un allestimento noi l'abbiamo personalizzata con un nutrito numero di accessori tutti provenienti dal catalogo Power Parts sostanzialmente ci sono poco meno di 1000 euro di accessori su questa moto che se venite a trovarci avremo il piacere di farvi vedere qual è la nostra richiesta per questo modello che è nella colorazione 2022 21 e il silver quindi il silver si dovrebbe essere in moto identica a quella che era il 2023 sicuramente diversa da quella che è il modelia 2024 che cambia totalmente ma proprio per questo motivo abbiamo voluto ancora di più incentivare il fatto di vedere di vedere questa moto così accessoriata che poi bene o male al 50% il crash bar piuttosto che alcune cose sono tra gli articoli più gettonati dai ragazzi che scegliono quella moto quindi noi gliel'abbiamo diciamo già preallestita a un prezzo molto interessante lo vedi ragazzino una ragazzina che arriva a scuola con questa moto qua ti fanno sceriffo del liceo ti fanno preside l'orario della scuola va bene perché a chiudere momentaneamente l'argomento KTM possibilità di fare test ride ci sono? sì a breve avremo modo a brevissimo stiamo per immatricolare una 1290 Super Adventure S se non vado errato nella gamma di KTM adesso avremo 890 SMT avremo diversi modelli diciamo che per noi anche per una questione di clima sebbene l'aspetto esteriore non sembra darmi ragione ma normalmente noi facciamo partiamo con i test ride intorno a marzo ci sono abbiamo già due moto kawasaki pronte per essere guidate una Ninja 1000 SX come diceva Luigi abbiamo il KTM 1290 Super Adventure che siamo sui blocchi di partenza ma ne arriveranno molte altre nei prossimi nei prossimi mesi deco tra marzo e aprile diciamo che già nel mese di marzo avremo la possibilità di soddisfare chi è interessato a provare a provare delle moto KTM e fin da subito già delle moto Kawasaki e allora andiamo di là portiamoci in Kawasaki tanto poi di KTM ci sentirete parlare ancora nelle prossime settimane state lì allora Davide abbiamo varcato una forte siamo stati catapultati nel mondo nell'universo di Kawasaki un brand molto attivo in questo in questo inizio di 2024 come gruppo noi ci occupiamo di Kawasaki già dal 2012 in realtà in Bike House Orange sono solo due anni che abbiamo incominciato direttamente a toccare mano con questo brand che è un brand molto interessante ricordiamo che Kawasaki è un'azienda che ha un'innovazione tecnologica impareggiabile dall'ora spaziale al navale ai treni e sulle moto non è tanto da meno sebbene negli ultimi anni non abbia ancora espresso quello che effettivamente potrebbe in potenza esprimere ma quest'anno già con alcuni modelli di cui però parleremo successivamente perché purtroppo non li abbiamo Kawasaki tirerà fuori la prima moto ibrida al mondo ed è veramente una cosa che mi dà molta emozione perché l'ibrido potrebbe potrebbe rivoluzionare anche il mondo delle moto certo come modelli continuiamo noi qui cerchiamo di dare un'esposizione piuttosto pulita vogliamo cercare di dare le possibilità ai nostri clienti di poter toccare con mano le moto quindi anche salirci sopra poterne sentire il peso assaggiarne quindi anche la manovrabilità noi qui abbiamo una buona parte se non una quasi totalità delle moto in gamma oggi disponibili perché come ti dicevo ci mancano i 500 che stanno arrivando ci manca l'Eliminator che è un altro prodotto che sarà molto interessante che si affiancherà alla Vulcan che è già una moto molto furba perché è una moto che permette anche alle persone come me che sono un pochino più piccolino di poter avere una moto confortevole e di ottima stabilità qui abbiamo le top seller di Kawasaki Z900 modello di punta negli anni ecco ci aspettiamo anche che Kawasaki possa a breve darci anche qualche buona novità in termine tecnologico Z900 SE meravigliosa con l'impianto frenante della Brembo con il mono posteriore della Olis moto divertentissima e di grande pregio che si affianca alle sue sorelline che non sono da meno assolutamente sono delle moto molto interessanti Z650 anche questa è una moto che io definirai top seller soprattutto per coloro che si avvicinano alla moto magari non in tenere età ma anche non so delle ragazze giovani che hanno già una patente almeno a due perché queste moto possono essere depotenziate e hanno un'ergonomia molto favorevole per delle ragazze io ho molte clienti che le apprezzano e peraltro vengono apprezzate anche a livello di scuola guida infatti molti miei clienti sono scuole guida che acquistano Kawasaki anche KTM ma Kawasaki questo è uno dei modelli più richiesti proprio perché c'è la possibilità sia di averlo depotenziato che di averlo per la patente A3 e la comodità l'altezza da terra è molto furba per chi deve usare questa moto per lavoro e poi ha quel look inconfondibile Z per cui alla fine tutto condito dal muso che è un muso Kawasaki 100% assolutamente altra moto interessante è il 125 che si affianca sempre nella famiglia Z questo è un modello che noi proponiamo in alternativa al top seller 125 Duke di KTM che permette normalmente anche di avere un prezzo un pochino più contenuto ed ha una dignità propria molto molto accattivante perché Kawasaki è lo spirito che trasmette Kawasaki è proprio uno spirito verde uno spirito di vittoria molto piaciuto molto evocativo piace molto ai nostri ragazzi Kawasaki anche in questo trovo che siano geniali coniugare la tecnologia moderna con uno stile che non è più quello di oggi ma che ha il fascino meraviglioso degli oieri io una moto così stiamo parlando dell'ARS l'ho guidata due anni fa l'avevo dimostrativa purtroppo quest'anno non ce la danno dimostrativa è una moto sicuramente non ideale per i grandi viaggi ma per il tempo libero è meravigliosa ha uno scatto e una risposta tanto quanto una Z quindi è cattiva tanto quanto una Z ma sa essere dolcissima nella guida lungo il lago e per farsi una bella passeggiata magari un prezzetto di pesce con poco vino o niente assolutamente e poi tornare verso casa con la propria compagna questa è una moto veramente molto piacevole alle mie spalle purtroppo faremo vedere successivamente 636 che ho dovuto prestare a un collega per un'esposizione vediamo due gioiellini di altissima tecnologia qui Kawasaki sprigiona esattamente quello che è nel suo DNA la grande innovazione tecnologica motori 400 77 cavalli sono delle belve moto super leggera sospensioni completamente regolabili cambio elettrosistito di serie nella versione RR sospensioni non regolabili ma cambio elettrosistito che può essere installato su richiesta del cliente sulla versione 4R moto io ne ho già vendute alcune sono veramente delle moto ahimè solo per chi ha la patente A3 non per chi ha la patente A2 perché la cavalleria il rapporto peso-petenza non permette il depotenziamento ma sono dei gioielli meravigliosi anche chi si avvicina a un 400 cc non ha nulla da invidiare a chi ha un 900 come velocità ripresa e proprio gestione della motocicletta sono delle motociclette meravigliose meravigliose Davide sono un grande sostenitore delle piccole cilindrate piccole e medie cilindrate e ritengo che questo discorso che hai fatto sia assolutamente logico come la Z650 che in realtà i nostri andavano anche a fare viaggi con la Z650 così senza adesso devi avere tutta un'altra altrimenti ti sembra che non ci possa andare in realtà ci si può andare il stesso di Casino per questa 400 perché alla fine quando la guidi e quell'emozione che intendo dalle tue parole mi mette solo voglia di provarla ma capisco che mi divertirei tanto quanto probabilmente con una 1200 super super carica con un peso molto inferiore e quindi una capacità di gestione molto più accattivante questa sicuramente io credo sarà la moto delle centaure italiane perché donne che hanno voglia di avere una moto molto prestazionale ma purtroppo per fisico hanno magari qualche difficoltà nel manovrare moto piuttosto pesanti su questa moto godranno come delle macchine che muso hanno mamma mia bellissima fantastico Versis moto estremamente versatile molto comoda per i lunghi viaggi ottima protezione aerodinamica moto che ha avuto che non è proprio stata costruita negli ultimi anni ma ha avuto diversi restyling e alcune piccole chicche come il miglioramento di tutta l'illuminazione detatta da fari a led che migliorano notevolmente dal TFT che aiuta anche il pilota ad avere una visione di insieme di come sta andando la sua moto in un modo più veloce intuitivo e moderno la moto è ancora oggi come dicevo non è nata pochi anni fa ma non ha perso minimamente il suo smalto giovane e divertente la moto da guidare è veramente molto interessante perché ha meno elettronica magari di una KTM di pari livello ma è una moto molto godibile quindi io quando la guido posso sentire il mio corpo unito alla moto e sapere che è una mia estensione del corpo quindi è una moto molto divertente ancora oggi anche questa si può ovviamente equipaggiare con borse con sell più confortevoli sebbene queste siano già molto confortevoli parlando di promozioni dicevamo prima ci sono tre promozioni base che fino a tutto il mese di marzo sono ancora attive in Kawasaki una è esclusivamente legata alle Versys sia 650 che nella versione 1000 purtroppo io la mia 1000 le ho già vendute ma beh meglio ne arriveranno altre ne arriveranno altre con Versys si regala il kit tourer che è composto dalle due borse principalmente dalle due borse laterali e i paramani ovviamente oltre a qualche protezione dei display sempre a livello di promozione altra promozione interessante sulla Ninja 1000 anche questo chiedo scusa a chi ci guarda ahimè le ho vendute tutte ma mi arrivano quindi si possono avere anche qui kit tourer kit tourer in omaggio e poi sulla Z900 Kawasaki ha voluto veramente offrire Kawasaki e noi ovviamente abbiamo voluto veramente offrire l'opportunità di accedere al top seller di Kawasaki con uno sconto secco in fattura di 1300 euro quindi oggettivamente è proprio molto spesso le promozioni nascono un po' di insidia io trovo qualche cliente eh sì però io le borse realmente non le volevo non mi puoi fare purtroppo le promozioni sono fissate dalla casa madre sullo Z900 invece questa opportunità c'è poi noi cerchiamo è ovvio non siamo del tutto esaustivi ma cerchiamo di farlo abbiamo provato abbiamo incominciato a inserire in gamma anche abbigliamento accessoristica anche piccoli gadget per fare i regali quindi di Kawasaki cerchiamo di offrire anche proprio dei capi che possono a livello tecnico o a livello casual possono arricchire l'esperienza di chi gode di questo è bello è bello vestirsi con i colori e il logo della propria moto va bene fantastico questo è un video di presentazione di questa realtà Davide ti faccio vedere la parte elettrica ma scusami me l'hanno diventata non dirglielo che io non è che sia proprio molto elettrico non glielo dire però c'è sempre da imparare ok c'è sempre da imparare io ci tengo prima di parlare dell'elettrico a dire che tra i miei soci c'è Roberto Frigo che è una persona più grande di me ma è una persona che corre tra l'italiano e le gare regionali di cross di enduro è arrivato secondo per tre edizioni consecutive nel trofeo KTM enduro è una persona è una bomba orologeria di uomo e lui mi aiuta ci aiuta anche a portare la nostra bandiera sui campi da cross e infatti molti appassionati della zona sicuramente lo conoscono e sicuramente lo troveranno con il suo bellissimo camper KTM a parlare di questa cosa super ufficiale ho detto questo ho ricordato Roberto perché perché Roberto è esattamente come te lui dice queste moto non fanno rumore non sono moto no ma per un certo per un certo tipo di utilizzo si lo concepisco finché siamo sulle due ruote scooter per la città lo concepisco Super Soko è una marca cinese è una marca che noi abbiamo da 5 anni 5 anni è una moto Bosch per cui interessante sotto questo punto di vista lui è molto pertinente ecobonus e tutto quello che poi a livello anche commerciale ha gravitato e ha aiutato la diffusione di questo tipo di mezzo questo si indubbiamente è un modo diverso di andare quello che magari più per necessità di muoversi come un mezzo che abbia questo tipo di caratteristiche e poi magari vuole essere anche green diciamo che il motociclista tipo Kawasaki KTM probabilmente fa molta fatica a pensare di andare sul mezzo di questi però nell'ambito di quello che sono di spostamenti urbani abbiamo e non solo perché calcolate che il CPX questo modello chi lo sceglie con due batterie realisticamente veri reali più di 140 km di autonomia con due batterie per cui abbiamo sicuramente un mezzo che è proprio per la destinazione d'uso per cui è stato creato è ottimo è una soluzione sì è una soluzione è una soluzione c'è un nostro cliente molto affezionato che ha percorso più di 50.000 km ad oggi sì 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 e se la me era male perché dice cavolo devo prendere subito due batterie forse avrei fatto ancora un 7 8.000 km più di quello che ho fatto perché di tanti dati mi devo fermare a ricaricarlo a casa quindi bello perché dà la possibilità di fare una ricarica con quella corrente diciamo dell'abitazione c'è la possibilità di togliere batterie quindi anche chi magari abita in un condominio che ha solo la tromba delle scale o un posto dove non è fornito di prese elettriche deve lasciare lì il mezzo la batteria però se la può portare via ricaricarla e ripartire il giorno dopo carico sì sì quindi non ha bisogno di un posto specifico per poterlo ricaricare riportare alla massima capacità di chilometri e quindi molto molto interessante e ricordo a chi ci sta ascoltando che gli ecobonus ci sono purtroppo non sui termici ma sugli elettrici siamo in piena campagna quindi chi è interessato a fuire di un'opportunità che il nostro governo dà può beneficiare di uno sconto dal 30 al 40% sul prezzo netto IVA su mezzi che sono molto interessati oltre ad avere dei vantaggi dalla parte della regione Lombardia dove il pagamento del bollo è esentato per 5 anni e a livello assicurativo su un pari modello termico il costo assicurativo è inferiore del 25% quindi chi si avvicina a questo come mezzo urbano di mobilità urbana non tanto a una moto ma a un mezzo per usarlo tutti i giorni per andare al lavoro con questo mezzo sicuramente il costo dell'energia elettrica seppur aumentato costa molto meno della benzina no bollo e un'assicurazione del 25% più l'Ecobol ci sono tutte le carte in tavola per poter offrire un prodotto interessante ragazzi allora sono strafelice di aver incontrato nuovi amici Davide e Luigi grazie per l'ospitalità ci vedremo presto per parlare anche di usato di tutti gli altri servizi e poi magari facciamo anche dei focus sui vari modelli in attesa che arrivino nei prossimi giorni le novità KTM Kawasaki targate 2024 per qualsiasi informazione i riferimenti sono in sovraimpressione Davide e Luigi sono a disposizione assolutamente a disposizione promesso promesso parola di lupetto alla prossima da Bike House a Orangia Varese ciao ragazzi ciao Luigi grazie Musica Grazie per la visione!